Musica Presidente Berlusconi, dal Viminale sono arrivati dei dati, dati preoccupanti che riguardano la criminalità, come possiamo commentarli? La criminalità che aumenta è una conseguenza diretta delle difficoltà in cui si trovano le persone, perché la politica dei tecnici ha portato a un incremento della pressione fiscale, a un impoverimento generalizzato del Paese, i disoccupati sono cresciuti di più di 600 mila persone e quindi questo può aver indotto chi non è in grado di riuscire a mantenere se stesso e la propria famiglia a commettere dei reati. Sono aumentati i cosiddetti reati di strada, come gli scippi, sono molto aumentati i furti nelle case, le rapine nelle case e sono aumentate anche le truffe via internet. E tutto questo come portato di questa situazione di povertà che aumenta e compiuto da persone che non sono organizzazioni, ma sono dei singoli. Quanto alla povertà che aumenta, purtroppo i dati che abbiamo sono molto preoccupanti, perché gli ultimi dati ci dicono che sono più di 2 milioni le famiglie che sono vicine alla soglia della povertà, il che significa che sono più di 8 milioni di individui. Quindi per arrivare a cambiare la situazione bisogna cambiare la politica economica che è stata portata avanti da questo governo, che si è appiattito sulla politica suggerita dalla Unione Europea a trazione tedesca. Aggiungo anche un'altra osservazione. Noi abbiamo tra i meriti del nostro governo anche quello di una grande attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla lotta contro la criminalità. La criminalità minore come questa di cui parliamo e questa l'abbiamo risolta con il poliziotto, il carabiniere, il vigile di quartiere, con addirittura i militari mandati nelle periferie delle grandi città e questo ha portato a una caduta notevole di tutto questo tipo di reati. E poi abbiamo fatto una lotta, come mai si era verificato, contro le associazioni criminali, mafia, camorra, eccetera. Siamo riusciti con le nostre leggi a dare la possibilità di sequestrare, e poi di confiscare più di 20 miliardi di Euro dei patrimoni delle famiglie mafiose. Siamo riusciti ad assicurare alle patrie galere 32 dei 34 più pericolosi latitanti che da tempo non riuscivamo ad agguantare e abbiamo messo in carcere più di 6 mila presunti mafiosi. Quindi credo che siano stati dei risultati rilevanti che questo governo non ha nemmeno lontanamente raggiunto e che sono un altro punto negativo nel giudizio nei confronti del governo dei tecnici. Presidente Berlusconi, lei ha parlato appunto del tasso di povertà, un dato veramente agghiacciante se vediamo la situazione è quella di tante famiglie di italiani, famiglie che difficilmente arrivano più al 30 ma al 15 del mese. Inoltre lei insiste molto nel dire che se dovessero vincere le elezioni Bersani o Monti per gli italiani ci sarebbero altre tasse, nuove tasse. Sì, da un lato sulle famiglie tutti gli aumenti che sono già programmati per quest'anno, per il 2013, si calcola che possono portare a una spesa di 1.250 euro per famiglia. Se prendiamo il salario di un operaio significa sfilare a questa famiglia un'altra mensilità in più rispetto alle due mensilità in più che sono già state sfilate nel 2011. Quindi metteranno molte famiglie, come lei accennava, in una condizione di vero disagio. Dall'altro lato è la sinistra che dichiara che una volta al governo, lo dichiara nel suo programma ufficiale, non solo non abbrugherà l'Imu, il che è già una cosa veramente negativa, perché l'Imu non soltanto incombe sulle famiglie, quest'anno ha portato via, dovrebbe portare via ancora la tredicesima, l'anno prossimo, eccetera, ma porta a un minor valore del nostro patrimonio familiare. Cioè ogni casa, essendo gravata come proprietà di una tassa annuale, vale di meno e la diminuzione di valore va dall'8% in meno al 20% in meno. Con l'Imu l'Italia si porta al secondo posto tra i grandi paesi per le imposte sulle casa. Al primo posto c'è la Francia e calcolando 100, quello che si paga in Francia, in Italia con l'Imu e con l'aumento che c'è stato del catasto, dei valori catastali, si arriva all'80%. Per fare un paragone con altri paesi importanti, in Germania la casa è tassata sempre al rispetto al 100 della Francia per il 45%. Quindi c'è da pensare a questo fatto, anche perché il nostro patrimonio immobiliare costituisce quell'attivo che è per i mercati finanziari anche la garanzia più importante per il nostro debito pubblico. Quindi l'Imu noi garantiamo che la abrogheremo con un provvedimento che abbiamo già pronto nel primo Consiglio dei Ministri, dove davvero arriveremo a vincere le elezioni e abbiamo già anche in questo decreto legge indicato quali sono le altre imposte, gli altri aggiustamenti d'imposta che dovrebbero portarci a introditare quei 4 miliardi di lire che noi verseremo ai comuni che avranno dovuto fare a meno dell'Imu e sono a gravi di pochissimo conto sui giochi, sulle scommesse, sulla birra, sugli alcolici, sui biglietti di imbarco aereo in certe situazioni. Quindi delle cose sul tabacco, delle cose che non saranno assolutamente avvertite anche per la loro modesta entità. Ricordiamoci che per quanto riguarda i giochi e le scommesse si muovono 80 miliardi di lire, quindi andare a portare a casa un miliardo, un miliardo di 300 milioni su 80 miliardi di lire è veramente una cosa assolutamente non avvertibile, poco significativa. Quindi questa è la situazione che riguarda l'attualità delle tasse. A questa situazione si aggiungerà quello che la sinistra già dichiara di voler fare con una nuova tassa patrimoniale sui beni mobili e immobili degli italiani, di quali italiani? Degli italiani che attraverso il lavoro e attraverso i sacrifici hanno raggiunto una posizione di benessere. Quindi viene fuori sempre e comunque la radice ideologica di questa sinistra che purtroppo per noi non si è trasformata in un partito democratico, come è successo fortunatamente per loro in Inghilterra 100 anni fa con la trasformazione del comunismo ortodosso nel partito laburista, come è successo molti decenni fa in Germania, Bad Godesberg, con la trasformazione del comunismo primo in socialdemocrazia. Da noi questo partito democratico è ancora strettamente collegato con l'ideologia di partenza del comunismo ortodosso. Cioè in loro non è mai venuto a meno quella spinta di invidia verso chi ha di più e che si trasforma in un carico di tasse andando al governo nei confronti del ceto medio e del ceto benestante. Presidente, ovviamente non possiamo dimenticare i giovani. I giovani dovrebbero essere il futuro del nostro paese. Lei spesso ha parlato proprio dell'importanza dei ragazzi all'interno della società per far crescere e per dare ovviamente anche un nuovo spirito al nostro paese. In che modo quindi il PDL potrà valorizzarli nel caso di vittoria alle elezioni? Guardi, i giovani sono stati particolarmente penalizzati dalle decisioni di questo governo. Noi siamo con la politica economica che è stata applicata alla nostra economia abbiamo avuto un incremento, come ho più volte ricordato, di circa 600 mila nuovi disoccupati. E questo è particolarmente grave nei confronti dei giovani che hanno raggiunto la percentuale drammatica del 36% per i giovani che non trovano lavoro. Quindi un giovane su tre. Che cosa si può fare? Deve ripartire l'economia. Bisogna operare con quella che da sempre è la ricetta giusta è la equazione del benessere che è sostenuta da tutti i più grandi, importanti economisti del mondo che come credo gli italiani ormai abbiano imparato perché l'ho ripetuta diverse volte, me ne scuso, ma è fondamentale. E cioè la ricetta è questa, meno tasse sulle famiglie, sul lavoro, sulle imprese uguale più consumi, più produzione, più lavoro uguale a più fondi che entrano nelle casse dello Stato e che lo Stato può utilizzare appunto per ridurre le imposte per aiutare chi è rimasto indietro per dare vita a quelle infrastrutture che ci mancano e i cui cantieri noi avevamo aperto e che sono stati poi chiusi dal governo di Prodi e dal governo della sinistra. Quindi la situazione del Paese è generalmente una situazione molto difficile sul piano del lavoro. Ed è difficile non soltanto perché l'economia è andata verso un degrado di quasi il 3% con interi settori che sono entrati in crisi dal settore dell'edilizia residenziale. I francesi dicono, canole e battimà, va, tu va. Sono molti i settori, quelli dei mobili, delle stoffe che hanno subito dei danni dal fermo che va oltre il 50% del settore di costruzione dell'edilizia residenziale. Il settore delle auto è tornato a vendere le stesse auto che si erano vendute nel 1979. L'editoria è caduta nelle vendite di copie di giornali di periodici e ha avuto dal 17 al 26% di pubblicità in meno. Le televisioni locali e nazionali registrano purtroppo un 20% di pubblicità in meno. E questo significa anche che i consumatori ricevono meno stimoli ad acquistare prodotti di marca. Quindi si indirizzano gli acquisti, versi prodotti non di marca, le aziende di marca vendono meno, producono meno, hanno esuberi di personale, mettono il personale in cassa di integrazione, la cassa di integrazione raggiunge un miliardo di ore, record storico, e si entra in una spirale recessiva che pare non avere fine. Quindi questa è la situazione che è stata aggravata dal governo tecnico con la riforma Fornero per il lavoro, che ha reso più difficili le assunzioni dei giovani nelle aziende e che ha messo praticamente sull'astrico, senza né stipendio né pensione, i cosiddetti esodati. Quindi un danno grave che bisognerà assolutamente riparare annullando questa riforma e facendone un'altra. Per i giovani noi avevamo fatto parecchie cose. Ricordo per esempio la liberalizzazione per l'apprendistato, scusi, per l'apprendistato è stata una cosa importante perché abbiamo fatto un piano in base al quale i giovani nell'ultimo anno delle scuole potevano frequentare un'azienda per prendere una specializzazione professionale di qualunque tipo. E questo aiutava molto perché dava ai giovani una possibilità in più di lavoro e dava alle aziende la possibilità di assumere dei giovani che non erano avulsi dalla conoscenza delle regole dell'impresa ma che invece avevano già in sé capito, fatto proprie quelle che sono appunto le regole del mercato. Abbiamo liberato le assunzioni. Questo porta che non debbano essere soltanto istituti di Stato a provvedere al collocamento e quindi può essere fatto il collocamento da privati, dai comuni, dalle università e via dicendo e questo può creare sul territorio una rete molto utile per favorire la possibilità di incontro tra le aziende e chi cerca lavoro. E infine avevamo fatto un fondo per la casa che garantiva ai giovani la possibilità di un mutuo che potesse dare a loro una casa con delle quote di mutuo non superiori al mercato degli affitti nella città e l'avevamo previsto per tutti i capoluoghi di provincia. E poi avevamo naturalmente dato una spinta all'impulso che speriamo colpire tanti giovani di diventare imprenditori e di fare un'impresa garantendo per i primi tre anni la libertà dalle imposte totale e per il quarto e quinto anno un'imposta simbolica del 5%. Questo per i giovani che avessero messo in campo delle imprese veramente nuove delle start-up e che avessero meno di 35 anni. Quando saremo al governo ritorneremo su questi punti che bisogneranno per diventare operanti di una adeguata serie di regolamentazioni. Il resto per far rimanere anche i nostri cervelli le nostre grandi teste dei nostri ragazzi nel nostro paese per evitare che decidano di lasciarle. Si vede, questo è qualcosa che incombe come pericolo su di noi e le spiego perché. Più che prima. Perché la Germania potendo avere investimenti nel proprio debito sovrano che è il debito sovrano per eccellenza considerato solido e non passibile di default mentre per tanti anni dall'inizio dell'Euro dal gennaio del 2002 aveva pagato il danaro il 3,3% circa con quello che è successo nel campo della finanza successivo secondo me alla vendita che la Deutsche Bank aveva ordinato di fare alle sue banche dei titoli del debito pubblico italiano spagnolo e greco aveva fatto sì che gli investitori internazionali per investire nei titoli di questi debiti pubblici aperti alla possibilità anche magari teorica di default che deve essere un premio del rischio un premio del rischio che avevano trasformato nella richiesta di interessi per la Grecia del 13-15% per l'Irlanda e il Portogallo del 9-11% per la Spagna del 7-8% per noi per qualche settimana del 6 e qualcosa per cento contestualmente la Germania essendo l'unico debito sovrano non ripeto aperto al default aveva potuto trovare investimenti all'uno o per certi periodi anche a meno dell'uno per cento che cosa ha prodotto questa situazione? Ha prodotto una forte differenza di costo del danaro per le aziende tedesche e per le aziende per esempio italiane un'azienda che producesse gli stessi beni di un'azienda tedesca non potrebbe più anzi tolgo il condizionale non ha più potuto perché ci sono stati molti casi già successi reggere la concorrenza sul prezzo offerto dall'industria tedesca concorrente e a poco a poco si è vista ridurre le vendite fino anche magari a dover chiudere e ci sono già delle imprese soprattutto nel Veneto che hanno dovuto chiudere e sono state poi acquistate per pochi soldi dall'impresa tedesca a cui prima facevano una forte concorrenza a questo fatto al fatto che molte imprese dell'Italia e degli altri paesi siano costretti da questa impossibilità di competizione che aggrava la già difficile capacità di competizione che deve fare i conti in Italia per esempio con un 50% di meno di infrastrutture nei confronti della Germania e della Francia con un costo dell'energia molto superiore del 30-35% al costo dell'energia in Francia che ha l'energia prodotta per l'80% dalle sue centrali nucleari al fatto di avere qui una giustizia civile che impiega due o tre volte il tempo per far sì che è un imprenditore che ha emesso una giusta fattura nei confronti dei clienti si veda ripagato di fronte a dei sindacati che sono molto più combattivi e tenaci rispetto ai sindacati degli altri paesi adesso c'è anche questa difficoltà in più nel diverso costo del danaro e questo può far sì che molti giovani le migliori menti i migliori cervelli i giovani meglio preparati possano trovare maggiore facilità di lavoro in Germania e negli altri paesi del nord rispetto a quello che trovano qui in Italia e negli altri paesi mediterranei ecco per concludere questo ragionamento quando io sono tacciato di anti-europeismo rispondo e l'ho già fatto diverse volte piccato che io sono credo l'europeista più convinto che si possa trovare nella politica italiana ed è vero ma io penso a più Europa non a meno Europa e penso soprattutto a un'Europa che non sbagli nell'individuare le politiche che favoriscono il benessere di tutti i suoi cittadini Presidente un'ultima domanda per quanto riguarda il tema delle liste delle liste del suo partito voglio ritornare ai giovani che ruolo avranno? Avranno un ruolo significativo stiamo prendendo il 50% circa dai protagonisti del mondo del lavoro e cerchiamo di andare soprattutto verso protagonisti giovani 35-40 anni o giù di lì e abbiamo moltissime adesioni e abbiamo quindi la difficoltà di dover fare delle scelte poi per quanto riguarda una partecipazione dei giovani nelle liste magari anche in posti che comincino a fare un salto nella promozione o altro pronti per un salto successivo alle prossime elezioni ci sono moltissimi giovani che con passione con grande idealismo hanno fatto parte dei giovani Italia la nostra organizzazione dei giovani di Forza Italia e poi del Popolo della Libertà che riteniamo di premiare e con la possibilità che alcuni di loro possono effettivamente già diventare parlamentari alla Camera dei Deputati e mi consenta di dire anche in questa occasione che cerchiamo di riservare un posto importante anche alle donne alle signore che hanno fatto molto bene nella legislatura che si chiude tenga presente che credo che siano addirittura 8 su 10 tra i parlamentari che hanno il più alto indice di presenza 98 97 99% e in Parlamento in un Parlamento così numeroso non bisogna soltanto lavorare bene ma bisogna anche essere sempre presenti occorre essere presenti per quelli che sono i numeri i voti nell'aula ma anche nel lavoro vero che si fa in Parlamento quello delle commissioni e qui vorrei anche approfittare della sua pazienza per sfatare una delle cose che si dicono di me che considero poco le donne che le guardo soltanto in una certa dimensione è esattamente il contrario io nelle mie aziende da imprenditore e poi quando sono diventato protagonista della politica ho sempre portato alle donne un grandissimo rispetto una grandissima ammirazione ho sempre dichiarato pubblicamente nei vari convegni con le donne che io ritengo che le donne siano più bravi di noi a scuola all'università nel lavoro più precise più responsabili più continuative avete anche più coraggio di noi perché la natura vi ha imposto di essere madri nel dolore e avete un talento per arrivare all'essenza delle cose che a noi è completamente sconosciuto io ho ricordato poco tempo fa per esempio che quando da imprenditore che era arrivato ad avere 56.000 collaboratori e ho assunto qualche migliaio di dirigenti moltissimi dirigenti erano portati da me per il giudizio finale e in certi casi io avevo un giudizio che mi scaturiva immediato in altri casi non era così facile arrivare a un giudizio positivo però ero attirato da certe caratteristiche del soggetto in esame e allora qualche volta quando avevo dei soggetti che andavano a ricoprire posizioni particolarmente importanti che però in me non suscitavano il 100% della tranquillità li invitavo a casa mia e li facevo sottoporre a un esame non diciamo dichiarato ma un esame abbastanza diciamo così delicato nei loro confronti dalle mie mogli la prima e la seconda mia moglie e dopo mi affidavo totalmente al loro giudizio il quale era un giudizio che non si è mai rivelato sbagliato e quindi avete anche questa caratteristica abbiamo avuto nel governo diverse presenze familiari e anche giovani e sono state tutte bravissime c'è per esempio un reato che sta avendo moltissimi dati di necessità il reato di Stolkin sono moltissime le donne che attraverso il reato di Stolkin hanno potuto sottrarsi a delle pressioni che le mettevano in una situazione di difficoltà con anche timore per la propria vita e per la vita dei propri cari e quindi è stato un reato veramente importante che abbiamo noi per primi attuato in Italia e che poi è stato anche autorizzato dall'Unione Europea abbiamo accresciuto le pene per gli stupri accadeva prima che questo avvenisse che gli stupratori venivano mandati in arresti domiciliari subito e noi invece siamo arrivati addirittura all'ergastolo in caso di morte della persona stuprata e prima non è mai accaduto abbiamo fatto molto anche per quanto riguarda la donna che lavora abbiamo per la donna che lavora inserito le percentuali rosa per quanto riguarda i consigli di amministrazione delle aziende 20% ora dal 2015 33% per i comuni nelle prossime elezioni si potranno dare due preferenze purché una sia una donna preoccupandoci della donna che deve dividersi tra il lavoro e i compiti di madre e di sposa abbiamo dato impulso ai cosiddetti asili nido condominali agli asili nido aziendali e abbiamo investito 18 mi sembra 30 milioni in questa direzione in un momento di difficoltà economiche ecco quindi abbiamo credo agito bene contravenendo a quello che aveva fatto la sinistra che dei diritti delle donne si è sempre riempita retoricamente la bocca ma non ha prodotto niente di buono io ringrazio il presidente questo è chiaro che mi deve portare a qualche migliaio di voti in pudere delle vostre ascoltatrici grazie mille presidente grazie molto a lei